e bello a tutti ctr benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su fortnite e faremo una challenge a ogni kill una onda energetica però non c'è nessun tipo sono la sola in questo video però vabbè iniziamo subito comunque è cambiata già la lobby con questo nuovo aggiornamento comunque da un botto che non faccio il video forse soprattutto sono messo questo come come state ragazzi io bene spero anche voi ma questo da ieri che ce l'ho però magari voglio mettermi tutto di cromo c'è anche questo di cromo in piccolo vabbè ormai comunque raga forse non è sicuro ma vediamo quando ci sarà l'evento il tredicembre farò una live forse poi vediamo ma una figata sarà una figata o ho letto ho visto tipo che che ci saranno capito non riesco non so come fare a mandarmi l'immagine poi devo vedere ok questo sembra di cromo ma non è di cromo è quello stile di grotto in realtà neanche la mia skin è di cromo devo arrivare a 50 livelli siamo in una situazione di stallo nell'attesa che si attiva la nuova fase dei miei ordini non è vero abbiamo seguito operazioni sartano scienziato nelle versioni da un 46 penso davvero che la 47 è quella giusta il traduttore rileva un segnale d'epore che significa che partiamo in tornata ora guardate pinnacoli di cromo me l'aveva detto e me l'aveva detto mio amico gabriel ma non è cambiato molto ma si è un po' è cambiato in realtà vediamo come si chiama pinnacoli purulentio non so cosa c'entra col cromo però vabbè ok raga mi devo ricordare però ogni chile un'onda energetica ti vuol c'è onda così mi prendevo cito più ma non penso che esiste vi ricordate io non giocavo ancora non capivo niente su forza ho iniziato del capitolo 2 ho iniziato a capirci qualcosa io ho signo del capitolo 2 ho iniziato a fare video nella stagione 6 del capitolo 2 di fortemente poi l'altro tipo i miei primi video ad aprile stava oggi uno un'occasione per fare un'onda energetica 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 c'è spadella c'è un'altra quante energetica c'è un altro quanti sono? quante energetica? c'è un altro migliori onda energetica i duetti i pregiunti il quadrati migliori ho visto un video non lo sto ricordando onda energetica ho fatto cose energetiche finora pensavo che l'altro nemico stavo qua sinceramente perché stavo sparando ok vado in safe nella zona sicurale devo prendere il culo devo prendere i cosi mi sacrifico per i cosi ma ma che cavolo va bene ma fa un bagno ok vado a prendere il coso così e poi devo scappare subito che cavolo ok non mi sento più io quando ti direi addio scrivo vereno in chat ma poi non fremo in viola non è ok non è no scusate un giorno devo spaccato occhio non ho fatto per fare gli altri non riesco a fare siamo come due scemi in autobus che cavolo era successo? mi visti che hanno le orecchie non comment la macchina di cromo ieri l'ho scoperto questa cosa ma perché sta spoccando la macchina? oh non sta arrivando la safe oh non sta arrivando la macchina? ma fa magna le auto che non supportano l'acqua 10 minuti che stiamo in video bo 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 livello 70 attenzione comunque ragazzi non so non so devo controllare ma sono già tipo 86 iscritti ragazzi mi ringrazio mi ringrazio moltissimo per gli 86 iscritti ma vado a controllare ok scusami 86 iscritti grazie raga 86 grazie mille ok ho un'altra occasione per fare una onda energetica si crede forte ma forte ma forte non è onda energetica o chi aveva due chiavi questo gg al perché aveva lui però ora è morto mi ringrazio ho fatto 5 onde energetiche c'è già poi magari costruite lo rifarò con tipo esempio tipo di farò dire c'è questa challenge la ti farò magari con dei miei amici comunque se volete mandatemi la richiesta d'amicizia che ma che che per i provini anche così fate i provini del mio team da quanto tempo i video di fortnite ragazzi quasi non ha bisogno di attaccare diversi nuovi salvaggi che non ha bisogno di attaccare diversi nuovi salvaggi che è una malata vabbè 24 non so si dice blu aiutami lupo del cavolo e cavoli si del cavolo lasciami stare lupo che si è avvicinato onda energetica sei onde energetiche attenzione che fifone quello ed è scappato con il bottino morirà subito peccato potevo fare la settima la settima andata energetica vabbè sono ancora la sesta ok la che posso vincere sta partita mi immaginate che silenzio che c'è una mappa solamente quei rumori quei effetti rumori mi ricordo una parte no tipo la mia prima lettera reale era il mio compleanno oh quello di prima no non è quello di prima praticamente era il capitolo 2 se muoio così sono veramente scemo oh no sto cretino se muoio vuoto ma lo vanno a uccidere i lupi scusate ragazzi ok ragazzi che dolore mi sono fatto non potete immaginare che dolore non mi ha se mi arrivo a fine season comunque con tutte queste stelle no posso tipo se mi compro il pasto me lo compro tutto daga non fatevi domande comunque ctr non fatevi domande che ho detto che non ho mica sbattuto no sulla testa vabbè ragazzi spero tanti che questo video vi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao